Allora, finalmente un sorriso, finalmente una partita, diciamo, su di noi che ci aspettavamo, forse che erano battuti, il Taranto, il campione d'Italia che viene qui e viene prima, sono veramente... Partire battuti no, perché comunque siamo una squadra che abbiamo dimostrato di poter giocare con chiunque, solo che forse ancora non credevamo nei nostri mezzi, nel nostro unione di tutto. Ora, piano piano, credo che è la via giusta per far sì che recuperiamo quello che noi meritiamo, perché penso che sia una squadra che tecnicamente possiamo divertirci molto e far divertire anche gli altri, divertirci noi stessi anche, perché comunque quando vogliamo esprimiamo anche un bel gioco. Quindi penso che l'entusiasmo c'è sempre, indipendentemente dal taglio e dalla colce, perché comunque Massimo Rito, come si può ricordare, è una grandissima prima persona e poi allenatore. Quindi io penso che comunque tutto va dimostrato nel momento giusto, quindi ci aiuta a fare bene. Senti, le rotazioni sono state diverse, aspetto a gestione, ha influito il cambio del tecnico? Diciamo che nella chimica del basket funziona, che il primo che viene pagato è sempre l'allenatore, quando tutto va male, anche se sappiamo che lui ha fatto il massimo e noi abbiamo fatto il massimo. Sicuramente forse mancava col pizzico, un po' di fortuna, un po' di convinzione da parte nostra per far sì che tutto andava bene. Adesso? Adesso pian piano rimanecano le paniche, andiamo bene, c'è questa partita importante a Palma e anche loro hanno bisogno di due punti e penso che è un altro test importante.